Maria Lucia Revisoree Bene, se stiamo facendo un'escursione in montagna e il nostro compagno di escursione si gira verso di noi con una faccia terrorizzata, impaurita, che cosa facciamo? La sua faccia impaurita ci fa provare subito paura. E quindi, prima ancora di capire se lui sta scappando perché c'è la famosa orsagaio o qualcos'altro, o anche solo un'ombra, noi siamo già lì che scappiamo. Questo perché la paura serve ovviamente a sopravvivere e passa inconsciamente, direttamente, dalla nostro volto alle nostre gambe. Questo è un processo che conoscono molto bene i registi, soprattutto i registi di film horror, di film thriller, come per esempio Alfred Hitchcock. Si è ricordati infatti nella famosa scena della doccia la protagonista, che è Marion Craig, ha questo volto terrorizzato. Ecco, cosa succede? Che noi guardiamo la protagonista e proviamo istantaneamente lo stesso terrore. Questo perché le emozioni si trasmettono, si contagiano soprattutto tramite il volto, ma non solo tramite il volto, e servono a che cosa servono? Cosa sappiamo davvero delle nostre emozioni? Come facciamo noi a conoscerle? Quello che studiamo noi nel nostro laboratorio è come avvengono, come si riconoscono le emozioni. Sappiamo adesso che alcune di queste emozioni sono così fondamentali, così importanti, che nasciamo con la capacità di riconoscerle, ma anche di esprimere. Sono le emozioni fondamentali come la paura, il disgusto, la rabbia, la felicità, la tristezza, che ci servono per sopravvivere. Le emozioni dirigono il nostro comportamento, la nostra attenzione, la nostra memoria. Quindi cosa vuol dire? Che noi siamo degli animali emotivi? Sì. Non ci piace dirlo, perché abbiamo sempre ritenuto che le emozioni fossero qualcosa di irrazionale, di animale, la parte più brutta dell'uomo, che non riusciamo a controllare, ma è proprio così. Noi siamo degli animali emotivi, non siamo per niente razionali, perché è l'emozione che guida il nostro comportamento e lo fa per farci sopravvivere. Ma questo comporta anche che qualcuno, visto che le emozioni governano il nostro comportamento, possano in qualche modo provare a rubarcele. Perché? Per tranne vantaggio. Infatti, fin dal secolo scorso, quelli che sono stati definiti persuasori e occulti hanno utilizzato questo nostro mondo emotivo per capire come venderci maggiormente tutti i prodotti, vari tipi di prodotti. Questo perché quando noi acquistiamo, non acquistiamo un prodotto, acquistiamo un'esperienza emotiva. Ecco allora che tutte le emozioni, se conosciamo le emozioni dei consumatori, possiamo vendere meglio, possiamo vendere di più. Tutti i segnali, soprattutto degli emotivi, sono di tipo inconscio. E questi personaggi, diciamo, che lavorano all'interno del marketing, ultimamente hanno cominciato a fare uso di tutte le nuove metodiche delle neuroscienze. Le neuroscienze sono appunto le scienze che studiano in toto il cervello e che studiano in particolare anche tutte le caratteristiche emotive di quello che succede quando noi ci emozioniamo e come l'emozione finisca poi la nostra azione. Quindi il neuromarketing, è stato cognato questo nuovo termine, che cosa fa? Non fa altro che andare a valutare, a controllare, a misurare tutti quegli indici inconsci che definiscono il nostro mondo emotivo. Quali sono i segnali vitali, il battito cardiaco, la direzione dello sguardo. Quando guardiamo verso qualche cosa, quando io guardo verso qualcuno di voi, sto montrando interesse verso qualcuno di voi, e qui c'è qualcuno che lo sa, che ho molto interesse verso di lui, esposto la mia emozione verso quell'oggetto. Ebbene, se ci sono altre persone di fianco a me, tante persone, saranno tutte portate a guardare verso lo stesso punto. Perché? Perché l'emozione, perché lo sguardo dirige l'attenzione e dirige l'emozione. E guarda caso, se dopo dovremo scegliere fra diversi oggetti che sono stati guardati più o meno a lungo, sceglieremo tutti l'oggetto che è stato guardato più a lungo. Perché? Perché come diceva Coelio, attraverso gli occhi, la nostra anima, parlano le nostre emozioni. Ecco che il neuromarketing quindi coglie tutti questi canali, questi segnali inconsapevoli per utilizzarli, per darli al marketing, per venderci dei prodotti. Abbiamo detto il battito cardiaco, un altro segnale importante è la capacità della nostra pella di essere trasportata, trasportare energia elettrica. o ancora ci sono dei segnali molto, diciamo, più intellegibili, più direttamente coinvolti nel nostro mondo emotivo che sono quelli cerebrali. Il neuroimaging in particolare ci fa vedere in vivo quello che succede quando noi abbiamo una forte emozione e quindi può essere usato per definire quale spot è meglio di un altro, come scegliamo un certo prodotto. Il neuroimaging in particolare, la risonanza magnetica funzionale che è la metodica che utilizziamo anche noi per ricerca, ci mostra nel cervello quale zona lavora di più durante quel compito o durante l'acquisto o durante la scelta di un prodotto. Per esempio, è stato dimostrato con la risonanza magnetica funzionale che quando noi dobbiamo comprare un vino, non compriamo il vino in assoluto che pensiamo essere il migliore, ma compriamo il vino che costa di più. Persone messo dentro la risonanza magnetica gli hanno fatto vedere tante immagini di vini con il prezzo sotto, quale vino hanno scelto alla fine quello che costava di più. Sapete perché? Perché c'è una porzione della nostra corteccia cerebrale, si chiama corteccia orbito frontale perché sta sopra le nostre orbite, che definisce come noi facciamo le scelte, anche quelle economiche. Quindi sulla base delle nostre esperienze passate ci dice guarda che quell'oggetto lì costa di più perché vale di più, compra quello. Ecco, questo è vero nella maggior parte dei volte, ma a volte non è vero, sicuramente però il prezzo più un oggetto è a più alto prezzo, più noi lo sceglieremo. Un'altra cosa che sappiamo, sempre grazie alla risonanza magnetica funzionale, è come noi scegliamo, ci fidelizziamo a un brand. Anche in questo caso, persone dentro la risonanza magnetica vedevano o il loro profumo preferito, o il loro partner, o i loro figli. E la cosa incredibile che hanno scoperto è che l'amore per il brand preferito è simile all'amore coniugale. Quindi, è vero. Quindi cosa vuol dire? Che io scelgo il mio profumo un po' come scelgo mio marito, un po' come lo amo mio marito, ma non come amo mia figlia, ma è sicuramente come amo mia figlia. Questo modo di caratterizzare il nostro mondo emotivo inconscio di cui noi non siamo neanche consapevoli perché tutte queste persone sceglievano poi una cosa o un'altra in maniera assolutamente inconscia. Noi non sappiamo delle volte perché scegliamo delle cose. Sicuramente noi scegliamo degli oggetti perché valgono, ma li scegliamo perché hanno un'esperienza emotiva, perché sono emotivi. La profilazione emotiva passa anche tramite i canali social. Tutte le volte che noi clicchiamo su like, che mettiamo un emoticon, scriviamo come stiamo, come ci sentiamo, non facciamo altro che dare delle informazioni sul nostro stato emotivo, su quello che ci piace o che non ci piace. Qualche tempo fa un famoso social network è stato in grado di indurre una pandemia emotiva tramite i social. Che cosa vuol dire? La pandemia ormai sappiamo tutti che cos'è, purtroppo, la pandemia da virus. Esiste una pandemia emotiva. Quando io sono davanti a una persona che prova una certa emozione sono contagiato, lo dicevamo prima, no? Il bambino neonato che piange quando gli altri neonati piangono. Io che provo paura quando vedo un altro che prova paura. Questo però di solito succedeva, fino a un po' di tempo fa, nelle interazioni personali. Ebbene, i social network hanno dimostrato che è possibile farlo anche tramite appunto i social, i canali sociali, tramite quello che io scrivo in bacheca, il mood che trasmetto, posso contagiare emotivamente tutti i miei contatti. Quindi vuol dire che i canali social sono molto potenti. In alcuni casi, in alcune persone molto fragili che hanno già dei problemi con le emozioni, l'utilizzo eccessivo di questi social può portare un ulteriore impoverimento della loro vita affettiva. Queste persone, che si chiamano le settimiche, quindi fanno ancora più fatica di prima a riconoscere i propri stati emotivi, soprattutto differenziali da quelli che sono i propri stati fisici, quindi non sanno più cosa provano e quindi non riescono ovviamente a comportarsi adeguatamente. Però cosa è successo? Che proprio per queste persone in cui il mondo emotivo è stato depauperato, soprattutto a causa appunto delle nuove tecnologie, le nuove tecnologie stesse si sono dimostrate uno strumento utilissimo di psicoterapia. Chi fa fatica col mondo emotivo fa fatica nell'interazione psicoterapica uno a uno, perché proprio quello è il suo problema. E quindi ecco allora che tutte le app, tutte le cose, le psicoterapie a distanza vengono loro in aiuto per riprendersi il loro mondo emotivo. E funziona, funziona molto bene, queste persone stanno meglio. Quindi qual è il messaggio, quello che chiamano tutti il take-home message? Le nuove tecnologie e i social sono potentissimi, profilano le vostre emozioni, il vostro mondo emotivo, state attenti a quello che gli raccontate, a quello che gli dite. Ma se da una parte tutte queste nuove tecnologie possono depauperare il nostro mondo emotivo, possono invece, soprattutto in alcuni casi, aiutarci a prenderci cura delle nostre emozioni. Grazie. Applausi. 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 Applausi.